Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Monnaggia la madonna! Ma vattima! Ma vattima, vado, 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 vado Sta un ladro in casa No, no, no Ciao maestro, ti posso raccontare una cosa? No Perché no? Va bene, te la racconto lo stesso Ti voglio bene Io non ho parole Vincent? Ciao maronno, mannaggia Gesù Cristo Maronno, è mezzanotte, porca madonna Non mi fate urlare, scemi Rettini Mannaggia, è mezzanotte, ambiente rumoroso Guarda qua, questo è un cazzo 157 euro Ma come, non è vero, va giù, secondo voi Ma giù la maronno, va che potete chiedere la porta dei carabinieri Va vicino Non mi fa su Che figura Te ne avevo tutta un'inizio L'angolo Oddio Porca madonna Porco dio No È esplosio È esplosio No Oh, è un po' Oh Io ho vetti Non ho visto Non ho visto Non ho visto Non ho visto No, non ho visto Non mi rivede la clip quante panna è vero è spammatore è spammatore adesso adesso accendi luce cucina ok ok a alex stop 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 Ma non so che c'è ma non to' Puta E' bella in comodità Brati che hai sporcato sui panini Ma che è? Mi hai fatto fuggiare Oh no, sono cagato su Oh no, il cuore, il cuore, il cuore No, è bello, è bello, è bello E' chiapato un cuore, non capo Come un cuore? Che non so, che non so, che non so Che non so, che non so Non so Non so, non so Non so, non so Non so Non so Non so Mi hai subito Te Non so Non so Non so Mi hai fatto fuggiare Tu ho profiare Mi hai fatto fuggiare Non so E' 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 e chi su forza così aggelo ora ma non è morto di destra morto ora ti è spaccato ma un cacchi di destra morto io ho fatto scappare l'animale porco dio cazzo l'onnaccia è sparato? no è curgo era un coniglia maestro guarda l'ultimo meme che ho mandato mi sto morendo dalle risate comunque sono un guru di questo gioco vai dove c'è l'acqua va imbazzire va imbazzire delle volte ho detto ti mamavo invece no quante volte ci siamo scambiati peggio di noi tu mi fai imbazzire e tu mi fai imbazzire quante volte hai detto stai se è meglio se te ne mai perché sapevi che non ce ne sei andato mai tu mi fai imbazzire e tu mi fai imbazzire pure all'acqua anche per cambiare un po' anche è una cosa ecologica nel senso che anche per l'ambiente alla fine vedete ci si usa meno plastica meno e quindi ottima qualità quindi ragazzi grazie per chi lo farà vi ricordate in chat punto esclamativo waterdrop ragazzi zero zuccheri aromi naturali prezio semi vitamine pure le vitamine è meno plastica vedete quindi tutto lo shop è disponibile ragazzi con il mio codice sconto gischiando 10 i prezzi sono scritti qua vedete 28 euro e 90 usi il mio codice sconto e lo paghi di meno quindi alla fine conviene capito calendario dell'avvento grande ah beh questi poi sono i bundle quindi escono tutti i gusti dentro vedete questi escono tutti i gusti dentro allora questo è ma così no ah ma perché tu li hai visto eh no ah taşè no 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 mak Ma non lo capisci! Ma non lo capisci! Ma che cosa che fai? Non me lo capisci, lo vado eh! Ma perché te stai nascimunenne con questo Alexa? Ma non! Ma sono piacere! Non ciò che ci chiamo con questo Alexa! Non ne so niente! No no, guarda che condivisci un! Com'è già metto il capovolto? Com'è già metto? No, è normale! No, è normale!